Sono state tre buste sospette con dentro della polvere bianca, recapitate agli uffici cagliaritani dell'INA e l'inviassonnino alla Camera di Commercio nel Largo Carlo Felice, nella sede di Equitalia in via Asproni, a far pensare a un pericolo di antrace. La prima lettera è arrivata all'INA e le in pochi minuti è scattato l'allarme, condizionato da frasi come complimenti e ha aperto una busta all'antracite contenute all'interno delle missive, che hanno preoccupato i dipendenti degli uffici. Sono stati i vigili del fuoco del nucleo NBCR, dopo diverse ore di lavoro, a far cessare l'allarme, perché la polverina è risultata innocua. È arrivata poi la seconda segnalazione dalla Camera di Commercio, dove si è resa necessaria la medesima procedura, conclusa con un falso allarme. Ultimo caso, la sede di Equitalia, dove i vigili del fuoco hanno appurato l'assenza di una minaccia reale. Adesso saranno i carabinieri a svolgere le indagini per poter risalire al mittente delle lettere.